buona sera a tutti sono luigi onaraku se preferite e distrutto dopo che sto cercando di completare bundles gate che si sta rivelando riuscire a far prima di file fantasy più complesso del previsto ma buonasera e bentornati al nono anniversario di dramaturgo battle versione japp abbiamo visto prima devo ancora vedere i commenti tutto quanto un gogita ma ora parliamo di quello che a mio avviso si è preso il posto di migliore lr del gioco miglior pigingene del gioco roba al quanto sbagliata sulla carta che arriva valori di danno che non hanno senso ribaggono ad una piena senso ovvero broly lr agl del film di super naturalmente o era da una vita che broly non era il pc più forte del gioco era praticamente dall'uscita della sua lrstr quindi tanto tempo ma andiamo a vedere con ordine cosa mi fa dire che questo è il miglior pc del gioco e come funziona il ragazzone abbiamo 15.925 hp 18.865 attacco e 12.081 di difesa leader della nuova categoria super bosses che praticamente prende tutti i boss di super sono gli antagonisti principali dragon ball super sono quasi tutti extreme tranne le ragazze del sesto del secondo universo e girena oggi con anche non si sa per quale motivo unicamente virus fisico l'esperazione che c'è il free to play in una situazione che tutti gli altri virus fossero dei del film battle of god perché non ce neanche i vari golden quelli figli quindi ok ci sta piccato aver messo dentro virus anche lr il fisico sarebbe stato tanto però va bene oltre a questo abbiamo transformation boost o full power 3 10 7 per cento stats con un ulteriore trenta per cento a movie bosses e exploding rage davvero un ottimo un ottimo ottima leader il fatto di avere al suo interno transformation boost e full power permette transformation boost di avere praticamente metà dei pc del gioco ormai c'è di base lui anche un leader super ottimale può essere un leader di progressa poco ogni singola carta decente del gioco perché tra come va detta dentro la summation boost ci sta davvero qualsiasi cosa quindi gg e poi abbiamo un movie bosses che è comunque un ottimo categoria prende qualcosina che non c'è negli altri però riesce a farlo in carico gli altri broli prevalentemente penso che quella sia la caratteristica principale di questo gg gg leader che mi è piaciute con cui si riesce a fare davvero tanta robina carina solo super boss is fu un po fatica c'era e dovete avere pg proprio o reti pg o reti pg se non un po difficile arrivare a 6 però se la fate mista di tutte e tre si fa tranquillo passiva entranse animation 5 chi 100% attacco e difesa lancio un additional special per 4 turni dall'inizio della sua entrata attacco e difesa 150 questo qua per i primi 4 turni quindi abbiamo 5 chi 100% attacco e difesa 5 chi 100% attacco e difesa dall'inizio del turno guardia attiva grazie al cielo hanno fatto un broli che tanca un chi per ogni orbo ottenuta 50% di attacco al lancio della special 50% di difesa al lancio dell'ultra 2 chi di additional se gioca primo o secondo 6 chi additional special e 50% di ulteriore additional se gioca come terzo e questa è la forma base con la 12 chi che fa effetto kaioken attacco e aumento di difesa e la 18 che fa effetto greatly racist attack quindi grande effetto kaioken quello di gokai o str e aumenta difesa per 4 turni tanta 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 roba cosa posso dire della forma base allora escluso magari il primo turno pre special dove ha dei piccoli problemi di tanking tanca quindi già abbiamo siamo partiti da una cosa abbastanza buona fa già danni belli alti che continueranno ad aumentare ogni special che lancia cioè lui finché ha fatto la special vedete il suo attacco continuare in perterrito senza pietà ad aumentare non ha problemi di chi sinceramente può essere giocato un pochino come le fusion quinto anniversario in tutte e tre le posizioni la posizione 3 come potete capire è quella che gli garantisce in realtà di essere in perma 18 in qualsiasi condizione o quasi e di poter arrivare alle 4 special la posizione 1 e 2 che è quella consigliata invece gli garantisce comunque un'ottima possibilità di massimo 3 special e pochi problemi di chi proprio dovete sfigare per arrivare a magari queen 16 a 16 o 17 al posto di 18 tanta tanta roba però è un pg evo che ha però proprio nella sua active a mio avviso a mio avviso il punto debole del pg allora la sua active è sia evo che domain attivandola quindi attiverete il domain alternate dimensional space che aumenta il key degli extreme di 4 e trasformerete lui in broly full power attivabile dal quinto turno perché questo è il suo punto debole vi chiederete cavolo ci blocca tutti quanti i migliori pg i due pg del gioco extreme quando lui attiva il domain non potete attivare il domain di zamasu che quindi aumenta i danni ai super d'altro canto se attivate il domain di zamasu non potete attivare il suo ulteriore cosa doppio broly solo uno si potrà trasformare il che sia un bene con male perché dico questo perché quello che non si trasforma linkerà da dio sceso in terra con quello che si trasforma quindi potreste fare davvero una turnazione esagerata perché dubito ci sia qualcosa che regga alla turnazione broly full power broly agl full abilities nel gioco poca roba forse quindi questa condizione di active purtroppo è l'unico difetto del pg a mio avviso perché non vi promette di giocare tutto quanto ma ci sta perché comunque i domain sono unici il domain di zamasu è meglio aumentare i danni ai super è meglio di 4 che agli extreme però ci sta doveva mettergli il domain insieme alla trasformazione l'unica alternativa se avessi stato fatto inserire il domain nella passiva della forma trasformata ma andavate in conto a problemi di doppio domain e altre cose parlando proprio della forma trasformata ragazzi qua c'è tanta roba 300% attacchi difese secchi guardia contro tutto un key bonus un key bonus per ogni key sfera presa durante il domain ha 26% damage redaction così quando attacca 5% attacco quando viene attaccato a 5% di difesa aggiuntiva quando attacca lancia una special aggiuntiva più 26% di critico quando lancia una special lancia un additional più 26% di critico quando lancia un 18 lancia un additional quando lancia una 24 quindi ragazzi nel caso in cui voi lanciate una 24 che costo pg avrete la roba come 450% d'attacco edifee d'attacco 26% di damage redaction per 2 turni dalla sua apparizione perché turno 1 turno 3 avrete il domain sua special special aggiuntiva ok terza special perché avete lanciato la 18 key quarta special perché avete lanciato la 24 key praticamente quinta special perché l'avete buildato in additional con un 52% di critico e non è che carica poco ah no aspettate piccolo errore mio dalla parte precedente avevo letto mi sembra che ci fosse qualcosa che non mi quadrava il domain non ha l'effetto di 4 key agli extreme è l'active skill di Broly che dà 4 key infatti adesso vedremo il domain cosa fa mi sembrava ci fosse qualcosa che non mi tornava però non mi ricordavo quando ho passato una settimana quando l'ho letto ok ok sembrava ci fosse qualche pino in realtà è meglio di quello di Zamasu sotto alcuni aspetti allora capite quindi che questo robot è un robot che carica già da solo i 20 milioni con la 18 key non ha più effetto Kaioken un great risulta da una parte e risulta dall'altra crede che però arriva a fare miliardi di danni volendo anche in effetti se si fa staccare all'infinito il suo attacco arriva a dei danni che va non li conta neanche lo scout cioè è una roba offensivamente imbarazzante difensivamente post special penso che non ci sia per nessuno dovrebbero mettere un evento che picchia davvero tanto super tech e nei turni di non domain ma no neanche quello perché tanto la guardia non importa cosa non avrete problemi post special con lui il domain correggo l'errore di prima allora abbiamo un 10% attacco e difesa a tutti gli extreme sia amici che alleati 10% d'attacco e difesa aggiuntivo per ogni exploding o movie bosses e i super ricevono un 10% di danni in più mi sembrava fosse qualcosa di strano è ok sì è un ottimo domain calcolate che nel caso di una battaglia classica non finirà mai cioè chiuderete prima il soldone quindi com'è questo bro il miglior pc del gioco peccato peccato che vada a castrare se stesso copia e vada a castrare Zamasu la castrazione di Zamasu mi è rimasta davvero ci sono rimasto davvero davvero male non me l'aspettavo che castravano già Zamasu così pesantemente questo è proprio il pg da power creep perché fa da anni che non sono c'è l'interno in confronto anche i super saian boys il trio fa poco nulla però è un peccato che vada così a sovrascrivere Zamasu quando possono giocare nello stesso team e quindi avere la turnazione broli agl broli agl zamasu tech zamasu agl oddio non è che zamasu senza domain è inutile per carità però infinite zamasu era quel tocco di mortalità che schifo non fa certo che se c'è un evento che riesce a reggere questo qua dopo quattro turni poi tranquillamente fino a non Zamasu infine Zamasu entra ed è finita detto questo sono molto curioso di vedere se faranno come kk ovvero che è uscito Zamasu pg migliore del gioco mani basse e poi zack gohan che lo andava a combattere subito e quindi faranno il pg lockham festival super all'altezza di broli oppure se rimarremo con questo come miglior pg dell'anniversario io vi auguro una buona serata sono le 10 di sera finalmente posso rilassare e noi ci vediamo al prossimo video buona serata grazie a tutti